Ciao, ti do il benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltime per quanto riguarda l'indice Nasdaq. Allora, ci eravamo lasciati con l'ultima analisi, ok pulito, con il picco del ciclo da 80 giorni che era previsto intorno alla data del 19 di dicembre. In realtà io ho selezionato 16, ma a centrare proprio alla metà è un po' complicato. Comunque tra un 16 di dicembre e un 4 di gennaio ci potevamo aspettare la fase ribassista. Quella del 4 di gennaio ovviamente riguarda il ciclo da 40 giorni, poi in realtà avevamo anche il ciclo da 20 giorni che era previsto leggermente dopo, però tutta questa era l'area dove il mercato avrebbe potuto iniziare la sua fase di flessione. Condizione fondamentale sarebbe stata la rottura della trendline del ciclo da 20 giorni che effettivamente è stata concretizzata nella giornata del 3 di gennaio e allo stato attuale il mercato sembrerebbe, mettiamo chiaramente, usiamo il condizionale, aver iniziato questa sua fase ribassista. Nella giornata di oggi è andato a battere esattamente sull'ultimo massimo importante prima del rally, quello di dicembre, ossia i massimi della data del 29 novembre 2023. Che cosa dunque dobbiamo aspettarci da un punto di vista ciclico? Allora, l'onde sinusoidale che vediamo è composta dai cicli da 54 mesi, 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane e 80 giorni, con una data di calcolo dei cicli del 4 aprile 2018. Il prossimo minimo del ciclo di 80 giorni è previsto per il 29 gennaio 2024, quindi alla fine del mese di gennaio, ma abbiamo tutta una componente ciclica più importante, che è quella del ciclo 20 settimane, che allo stato attuale è prevista, con l'onda però composta, mi raccomando, attenzione a questo particolare, il 18 marzo 2024. Quindi noi che cosa dobbiamo fare in questo momento? Prima ovviamente di andare oltre, velocemente come sempre ti chiedo di mettere un like alla mia analisi, di iscriverti al canale YouTube, qualora tu ancora non lo abbia fatto, e anche di cliccare sulla campanella nera per rimanere sempre aggiornato con le mie analisi. Ti invito anche a visitare il sito iltradingpertutti.com, che dal 2007 è presente sul web, ossia da quando ho iniziato a fare trading. È nato come un blog personale, dove condividevo la mia operatività e la mia esperienza da alunno, se possiamo dirlo, del trading, fino a diventare un trader professionista, e avere poi trasformato il sito in un'azienda, perché ho anche la partita IVA. Ti invito ovviamente anche a unirti al canale Telegram gratuito, rimarai aggiornato con la mia operatività, riceverai analisi predictive che funzionano, e posto anche naturalmente risultati dell'operatività. Andiamo a vedere subito il mese di gennaio come sta andando, per quanto riguarda il segnale in tre dei sui futures, DAX, NASDAQ, S&P, Dow Jones, Gold e Petrolio. Le vediamo qua perché ero già condivisi sul gruppo free di Telegram. Abbiamo fatto tre operazioni, una sull'S&P 500, le vediamo qua nel dettaglio, non riuscivo... Una sull'S&P 500 e due sul Gold, una in profitto, l'altra in profitto per quanto riguarda Gold e S&P, e l'ultima, quella di ieri, prese un break-even. Il break-even per me sono tre punti perché in automatico mi va a mettere il mio sistema, il break-even a tre punti. Quindi un totale al momento attuale di 89 punti, chiaramente per quanto riguarda il Gold sono 7,3 dollari di movimento. I risultati, questi sono i risultati della prop da 50k e il risultato interessante di 2.159 euro. È un servizio segnali che è idoneo, adatto a conti da più o meno 5.000 euro in su, tenendo conto che si rischia lo 0,5% operazione e a seconda dell'ampiezza dello stop, il numero di contratti o la size è più grande o più piccola, l'ideale è, diciamo, per un conto del genere. Non è sicuramente un servizio idoneo a chi ha un conto da 200-300 euro, perché il costo dell'abbonamento non riesce, come si dice, non si riesce ad ammortizzarlo. Fino all'8, quindi fino al 7 dell'8 in realtà non ci sarà più, la promozione è ancora vaida con 49 euro al mese o 129 euro al trimestre finché si rimane abbonati, dopodiché passeremo a 89 euro per il mensile e 2,34 per il trimestrale. Questo perché fino a due settimane fa i segnali li inviavo solo su DAX e Nasdaq, invece ho aggiunto anche S&P, Dow Jones, Gold e Petrolio. Questo è importante perché in questi giorni nel DAX e nel Nasdaq mi hanno dato segnali. Non lavorassi più strumenti, probabilmente sarai incappato in qualche trade forzato e quando forzio un'operazione, già il mercato è difficile, se si va a forzare un'operazione diventa probabile che si trasformi in uno stop loss. Infatti gli unici segnali che ho avuto sono stati su S&P e Gold, quest'oggi non c'è stata nessuna possibilità e quindi semplicemente non ho fatto operazioni. Quindi direi che è andata molto bene l'inizio della settimana, anche dal punto di vista dei profitti. Voltami è l'indicatore per lavorare con il mio metodo ciclico, avrai accesso all'indicatore che ti permetterà di isolare tutti i cicli, di cercare un ciclo dominante e lavorare tutto ciò che è presente su MT4 o MT5 del tuo broker e avrai accesso anche a canale Telegram formativo e naturalmente ai video formativi. Direi di passare al continuo della nostra analisi. Quindi abbiamo detto che siamo in una fase ribassista per quanto riguarda il Nasdaq. Le medie mobili che sono, ahimè, aspettate che le rendo un po' più grandi, eh? Ok, non si vedevano. Stanno incrociando al ribasso, sono le medie mobili che utilizzo ciclico e quindi confermano anch'esse la possibilità di vedere un Nasdaq andare al ribasso. Andiamo a vedere su TradingView così diamo un'occhiata ai livelli. Tanto per cambiare, qui si è spostato tutto. E dai! Oh mannaggia! Ma perché non si sposta? Io non riesco a capire. Ok, livello di supporto più importante ce l'avremo tra l'area di 16.062 e 15.0838. Abbiamo un bel gap, qui parliamo del future, che chiaramente ha orari leggermente diverse rispetto al cash che utilizzo per l'analisi ciclica. E quindi abbiamo tutto questo bel numero di punti, diciamo di vuoto da poter lavorare, ossia stiamo parlando di circa un 500 punti fino al poco di questa fase rialzista o quantomeno comunque a disposizione all'incirca un 358 punti ulteriori fino al primo livello di supporto. L'importante era la rottura di questa trendline che adesso vado a trasformare in canale come al solito. Quindi andiamo a... Tolgo un attimo la trendline e la trasformiamo in canale. Il minimo è questo. E il mio altro minimo è questo qui. Il future, la differenza del, come potete vedere, del cash, ha chiuso leggermente sopra alla trendline invece per quanto riguarda il cash che utilizzo per l'analisi ciclica, quindi è corretto il cash da quel punto di vista, il mercato ha già rotto la trendline. Ovviamente la rottura dei minimi della giornata di oggi, quindi parliamo di 16.336, e darà il via alla fase di ribasso. Eventualmente si può liquidare una prima parte su questi livelli e poi cercare di portare il prezzo, qualora chiaramente poi ci vada, fino... fino all'area di livello che troviamo qua. Quindi stiamo parlando dei livelli 15.389, 15.221, però diamo un'occhiata anche, sempre l'analisi ciclica, è circa da 40 giorni, da 20 giorni, ok? Così abbiamo un'idea dei prossimi swing. Un primo minimo importante lo avremo intorno al 2 di febbraio, che è appunto il minimo del ciclo da 80 giorni, come abbiamo detto poc'anzi, e avremo due swing, il primo che dovrebbe formarsi intorno al 19 di gennaio, quindi idealmente abbiamo una quindicina di giorni di possibile ribasso fatto bene, tanto per usare un termine un po' più, cioè un meno meno tecnico, dopodiché dovremo vedere o una lateralità o un piccolo swing a rialzo fino al minimo del 2 di febbraio 2024, che vado comunque a segnare come minimo di un ciclo 80 giorni. Vedremo se così sarà, ti do un ti auguro, un buon weekend innanzitutto, ti do appuntamento al prossimo aggiornamento con Nasdaq. Ciao e buona serata.